SIGEP 2023 continua. Ci troviamo allo stand di Les Afres, un'azienda di origine francese presente in 5 continenti e con 170 anni di storia. Li festeggia proprio quest'anno e ci troviamo in compagnia di Marco Rotelli, il Market Manager per il Nord Italia. Marco, bentornato. Grazie mille, buongiorno a tutti. Allora, intanto vi ringrazio per tutto. Io sono Marco Rotelli, Market Manager dell'area Nord per Les Afres Italia e vi presento un attimo l'azienda. Les Afres è presente in tutti i 5 continenti, un'azienda familiare, azienda con più di 50 baking center in tutto il mondo e ormai quest'anno possiamo ben dirlo 170 anni di storia. Una grande famiglia e una grande storia. Les Afres offre soluzioni a 360 gradi nella panificazione. Noi nasciamo con i nostri lieviti, ma ci spostiamo su lieviti madre, codiovanti, miglioratori e soluzioni per la panificazione. Il nostro scopo è quello di aiutare il panificatore a trasportare l'emozione e a offrire soluzioni sempre innovative e tecnologiche, ma lasciando sempre il primo ingrediente nelle loro mani, la creatività. Volevo parlarvi oggi un po' delle novità che abbiamo qua all'interno del nostro stand al CIGE 2023. Noi rilanciamo quest'anno la nostra gamma di lieviti madre, la nostra gamma Livendo. La nostra gamma Livendo è compresa, è fatta da tre categorie. La prima categoria è la categoria dei lieviti madre attivi, dove siamo presenti con Starter, LV2 e Cran de Leven. Lieviti madre fantastici attivi, dove potete personalizzarli in qualsiasi preparazione, sia dolce che salata. La gamma continua poi con i nostri lieviti madre disattivati, sia essiccati e ben tre novità, novità importantissime, tecnologicamente avanzate e con grande libertà per il cliente finale di esprimersi in tutte le preparazioni. Il primo prodotto è il Matermia. Matermia è un prodotto facilissimo da usare, rapido, veloce per le preparazioni di pane. Tutta la tecnologia di lesafra, che conta tantissimi laboratori di ricerca e sviluppo in tutto il mondo, racchiusi in un piccolo sacchetto di 400 grammi. Venite a provarlo perché è una vera rivoluzione nel mondo della panificazione. Beh, direi che hai detto tutto tu. Io avrei voluto appunto chiederti qualcosa in più sull'azienda. Ti avevo dato il laudito, vabbè, quest'anno fa 170 anni e poi tu giù a cascata come un fiume in piena. Avrei voluto chiederti anche appunto quali erano le novità che presentate qui in fiera, però c'è una cosa che ancora posso chiederti. Quanti siete in Italia? Che territorio andate a coprire e con quale forza vendita? Allora, in Italia noi siamo presenti con un sito produttivo a Sissa Tre Casali in provincia di Parma dove produciamo tutto il lievito fresco distribuito in tutta Italia. Siamo presenti dal nord al sud con tanti concessionari, nostri depositi e abbiamo una distribuzione capillare in qualsiasi regione. Ovviamente in Italia siamo più di 200 persone e nel mondo contiamo più di 10.000 dipendenti. Beh, direi che altro che famiglia, cioè è una famiglia un po' allargata. Esatto, è una famiglia allargata, però è una grande famiglia unita che vuole portare sempre innovazione sul mercato. Marco, per chiunque desideri entrare in contatto con voi forniamo un indirizzo di posta elettronica a cui far capo per appunto richiedervi maggiori informazioni, entrare in contatto con qualcuno della sezione commerciale e chissà iniziare una relazione commerciale con qualcuno dei vostri. Allora, potete contattarci sul nostro sito web www.lesafre.it e su tutti i nostri canali social, vi aspettiamo. Che sono Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, i soliti. I soliti, esatto, tutti i nostri social, i soliti, vi aspettiamo. Marco, grazie, grazie per la collaborazione, sei stato come al solito anche tu molto collaborativo. Noi ci rivedremo ancora magari attraverso un focus su Orecanews.it con Orecanews.it proprio per parlare in modo più approfondito di qualcuno dei vostri prodotti prossimamente, nei prossimi mesi diciamo. Va bene? Grazie per la collaborazione. Grazie mille, è stato un piacere. Grazie a tutti.